Il vero e evoluto. Chi è il vero e evoluto? Commento. Nell'attuale periodo di iniziazione generale, ma ogni periodo della storia è stato un'iniziazione generale, sono tanti gli individui che credono di aver raggiunto stati di coscienza elevati. In realtà il vero e evoluto non saprà mai di essere tale, anzi non confiderà nemmeno a se stesso lo stato di coscienza che frequenta.